Festa dell'Assunta è di San Rocco dal 14 al 17 agosto sul piazzale di Via Torino a San Francesco al Campo. La Kermess si aprirà con l'inaugurazione di una mossa di pittura e tutte le sere si danzerà nel capannone appositamente allestito. Si cennerà gustando le privatezze dello stand enogastronomico e per i bambini il grandioso Luna Park. E ancora il concerto della società filarmonica la Vittoriosa al Banco di Beneficenza. Una Kermess da non perdere da 14 al 17 agosto a San Francesco al Campo. La Festa dell'Assunta è di San Rocco.